Il sindaco della città non accogliere con affetto, con affetto, con grande rispetto i lavoratori del nostro territorio. Una giornata di sciopero è un sacrificio, una giornata di sciopero è fatica, una giornata di sciopero costa, ma è un investimento, è un investimento in testimonianza diretta, non delegata a nessuno, è una testimonianza di capacità di soffrire per il proprio territorio, per le proprie famiglie, per il proprio lavoro. Non è un'assenza dal lavoro, è una putela, è una difesa del lavoro. Quello che io dico a voi lo dico con grande stima, grande consapevolezza della fatica che ogni giorno fate e che dico a tutti i dice al Polesine, dice al Veneto, dice all'Italia che vogliamo dignità nel nostro lavoro. E la dignità? Qualcuno non sa cosa sia e soprattutto non ha idea di cosa significhi rappresentare giorno dopo giorno, la forza bella di un'Italia che è fondata sul lavoro. Forse vogliono togliere anche questa dignità.